Bene, buon pomeriggio. Un caro saluto a tutti i presenti qui in sala e a quelli che ci seguono attraverso i potenti mezzi di comunicazione dei webinar che ormai abbiamo imparato in questi due anni a conoscere e a utilizzare. Ma ringrazio voi che invece siete qui in sala. Chiaramente la cosa è diversa perché ci si vede, ci si abbraccia con gli occhi e poi magari sarà anche possibile ovviamente interloquire con l'autore che è qui alla mia destra, Francesco Comina, e con Roberto Mancini che ci aiuterà ad entrare nella tematica di questo incontro. Prima di entrare appunto nel vivo siamo all'inaugurazione del diciannovesimo anno di questa scuola di pace che quindi ormai da molti anni resiste di fronte a tutte le difficoltà. Grazie. Io dico sempre che questa scuola è una scuola diciamo scuola di pace diocesana, a me piacerebbe molto che diventasse cittadina, ma lo è perché molti di voi giustamente non si fanno scrupolo di appartenenze e vengono perché i temi che trattiamo, cerchiamo di trattare dei temi che possano essere di largo interesse e quindi penso sia importante da questo punto di vista che sia veramente una scuola di pace cittadina. Tra l'altro un incontro lo terremo alla Mediateca Montanari, l'ultimo incontro, quindi attenzione al programma che non venite al quarto incontro qui perché sarà alla Mediateca Montanari. Quest'anno con tutte le associazioni, non le cito tutte, ma insomma le trovate nelle locandine che poi avete anche fuori. Come sempre sono tante le associazioni che ci danno una mano nel individuare anche i temi e le persone da invitare. Quest'anno ci è sembrato abbastanza naturale toccare il tema della coscienza. Naturalmente la prima motivazione sta nel fatto che quest'anno, 2022, celebriamo i 50 anni dalla prima legge sull'obiezione di coscienza al servizio militare, quella del 15 dicembre 1972, la legge 772, che riuscì a dare, diciamo, legittimità a quegli obiettori di coscienza che comunque prima di questa legge obiettavano finendo in carcere anche per anni e questo sarà fra l'altro l'argomento del terzo incontro, quello del 12 marzo, con due persone che forse pochi di voi conoscono ma che sono stati davvero dei protagonisti di quel periodo perché hanno fatto obiezioni di coscienza attraverso la loro obiezione, attraverso il loro coraggio insomma siamo arrivati a questa legge. Fra l'altro è qui in sala Marco Labbate, qua che è autore di un bellissimo libro e sarà lui a guidarci in questo incontro con Alberto Trevisan e Sandro Gozzo che riporcorerà quegli anni non tanto con una visione nostalgica di quegli anni ma per aiutarci a capire il senso dell'obiezione di coscienza oggi nelle situazioni che abbiamo tutti i giorni. Sempre sulla coscienza abbiamo fatto questa riflessione. L'Europa è riuscita in pochi anni ad uscire dalla seconda guerra mondiale in cui ci si è sbranati l'uno con l'altro ad arrivare nel giro di pochi anni anni prima alla comunità europea e poi all'Unione europea. Quindi ha dato un esempio straordinario da questo punto di vista di come si possa riuscire a far convivere popoli che pochi anni prima si uccidevano a vicenda. E però ci siamo chiesti com'è possibile che l'Europa in qualche modo abbia smarrito questa coscienza, questo bellissimo esempio che è riuscito a dare al mondo facendo diventare il mar Mediterraneo il più grande cimitero del mondo come ci ricorda spesso Papa Francesco e mettere al confine dell'Europa quelle situazioni che abbiamo visto proprio sotto Natale. Molti di noi hanno messo il filo spinato nel presepe per ricordarci di coloro che passavano il Natale di fronte al filo spinato al freddo bloccati da un'Europa che sembra appunto aver perso la coscienza. E qui ci sarà quindi il secondo incontro, il 5 marzo, sabato, dove rifletteremo su questo, dove è finita la coscienza dell'Europa. L'ultimo incontro, apparentemente un po' diverso, sarà un incontro particolare perché ci sarà con noi un cardinale, anche se da lontano, un cardinale cattolico in terra musulmana. E quindi ragioneremo su come si possa convivere fra situazioni così diverse, non solo convivere ma reciprocamente aiutarsi in nome della comune umanità, potremmo dire. Ecco, fatta questa premessa che ci dà un po' il quadro delle tematiche che affrontiamo quest'anno, tutte sotto il tema della coscienza, entriamo un po' di più sul tema di questa sera. Facevo questa riflessione che per decenni, su quanto è accaduto nella Seconda Guerra Mondiale ad opera del nazifascismo, era calato una specie di oblio. I sopravvissuti non parlavano. Alcuni dicevano non abbiamo parlato perché pensavamo che nessuno avrebbe creduto a quello che abbiamo visto e vissuto. Altri si vergognavano addirittura perché erano riusciti a tornare in vita avendo visto migliaia e migliaia di loro amici morti. C'è stata questa situazione. Io ricordo molto bene quando chiamammo Liliana Segre a Fano nel 2008, lei ci fece proprio questa testimonianza. Lei stessa per decenni non aveva raccontato nulla. Non si sapeva nulla di quello che era successo. Se ne sapeva, certo, gli storici qualcosa di più della gente comune sapevano, ma era un po' come se il tutto fosse rimasto sotto questa cappa. E finalmente un po' alla volta le cose sono cambiate. Io ricordo, li ho portati sul finire degli anni 70 come Mir e Movimento non violento, abbiamo pubblicato questi libretti che sono in qualche modo una ricerca storica di come in Danimarca, in Norvegia e in altre nazioni europee ci sia stata una resistenza al nazifascismo quando appunto poco se ne sapeva. C'era sembrato interessante queste resistenze non violente al nazifascismo. Dice come di fronte al nazifascismo era possibile una risposta non violenta. Ecco, sono degli esempi molto significativi di questa risposta possibile a cavallo fra gli anni 70 e gli anni 80. Ma molto più recentemente si è cominciato a scoprire, io stesso che ho avuto mio padre fra quelle persone, a scoprire la incredibile vicenda dei cosiddetti internati militari italiani, IMI. Una vera e propria obiezione di coscienza di 600.000 soldati italiani, i quali l'8 settembre del 43, di fronte alla scelta vuoi entrare nell'esercito nazifascista e combattere coi tedeschi o vuoi finire in prigionia, in 600.000, la quasi totalità furono pochi, quelli che accettarono di andare in prigionia. E i racconti di queste prigionie sono racconti durissimi. Lo stesso mio padre per tanti anni non ci ha raccontato nulla, poi ha cominciato a raccontarci qualcosa. Ecco, situazioni veramente durissime. Pensate se 600.000 soldati avessero combattuto con il nazifascismo piuttosto che finire in prigionia. Sarebbe stato anche un contributo purtroppo molto negativo alla continuazione della guerra. E' quindi una vicenda che solo negli ultimi anni in qualche modo è emersa, anche nelle giornate appunto del 27 gennaio, giornata della memoria. E' lì che in qualche modo si è riusciti a far emergere queste storie, queste storie davvero molto interessanti. Fino a che sono cominciate ad emergere anche storie di scelte personali, scelte durissime, che hanno portato anche alla morte. E quella di cui parliamo questa sera, quella di questa veramente figura luminosa di contadino austriaco Franzi Agestetter, è una vicenda che come Mir siamo venuti a conoscere qualche anno fa e ci ha subito colpito. Perché sono quelle storie in cui emerge il conflitto della propria coscienza di fronte alla situazione in cui ci si trova e l'avere la capacità di accettare la situazione in cui si trova a costo anche della morte. E allora quando Francesco Comina, carissimo amico che ormai è più a Fano che a Bolzano, quasi, no adesso esagero, con Lucia che è qua, è venuto tante volte a trovarci anche alla Spiaggia dei Talenti, a presentare i suoi libri veramente molto, sempre molto interessanti e stimolanti, quando ha scritto questo libro ci è sembrato quasi automatico chiedergli di venire a inaugurare quest'anno della Scuola di Pace, raccontandoci la vicenda appunto di questa vicenda di cui parliamo questa sera. Ovviamente il libro poi lo trovate fuori e l'autore resterà qui anche fino a notte fonda a firmarvi tutte le dediche che volete e quindi ecco questa sera raccontiamo questa storia. A corredo di questa bellissima storia c'è anche un film abbastanza recente di un anno e mezzo fa di un regista anche molto famoso e molto importante Terrence Malick. Il film si chiama La vita nascosta e fino all'ultimo abbiamo sperato di poterlo inserire anche come data all'interno del programma. Purtroppo le vicende in parte della pandemia, in parte del cinema Masetti che i fanesi conoscono ovviamente che sta per riaprire ma non ha riaperto in tempo, però contiamo a maggio e quindi lasciate i vostri indirizzi, i vostri recapiti perché a maggio contiamo di proiettare questo film e quindi chi avrà avuto la fortuna questa sera di aver ascoltato i nostri amici che ci parlano di questa vicenda, poi ne vedrà il film che ovviamente le immagini sono sempre molto importanti e molto forti. Detto questo non mi rimane che presentare i due nostri amici che sono qui con noi, ovviamente l'autore nella penultima di copertina c'è un suo profilo che leggo rapidamente ma giusto per avere un'idea con che abbiamo a che fare, Francesco Comina è di Bolzano, giornalista e scrittore, da sempre interessato ai temi della non violenza e dei diritti umani, ha coordinato per dieci anni il Centro per la Pace del Comune di Bolzano, ecco, con anche risorse economiche ben superiori alle nostre ma veramente se guardate ogni tanto gli incontri che è riuscito a organizzare Francesco a Bolzano veramente sono passati di lì personaggi più incredibili e più importanti. Ha scritto diversi libri fra cui il monaco chiamava il jazz dedicato a Thomas Merton, una figura cara a molti di noi, il primato della contemplazione, Monsignor Romero martire per il popolo, l'uomo che disse no a Hitler e con Agnes Heller, altra figura che qui a Fano grazie a Francesco abbiamo avuto un paio di volte, una figura veramente importantissima, una filosofa di livello internazionale, il demone dell'amore, un altro libro particolarmente interessante. Ad aiutarci nell'entrare nelle tematiche di questo libro abbiamo con noi Roberto Mancini. Roberto Mancini è professore ordinario di filosofia teoretica presso l'Università di Macerata, poi se hai avuto ulteriori aggiornamenti ce lo direi dopo. Anche qui il profilo credo sia interessante dirlo perché direttore dell'Università per la Pace delle Marche e qui abbiamo il presidente Mario Busti, Mario se ti alzi così ti vedono tutti, Mario è il presidente dell'Università della Pace che è questa istituzione che ormai da quasi vent'anni abbiamo nella nostra regione che come? Il tredicesimo anno che veramente fa delle cose molto interessanti. Roberto è il direttore, io faccio parte del consiglio e quindi mi fa piacere insomma ricordare questa istituzione così importante. È il direttore della scuola per l'economia trasformativa dell'Università della Pace, collabora con tante riviste, Servizium, altra economia, dirige Orizzonte Filosofico, insomma tantissime cose in particolare. Mi preme così sottolineare la collaborazione con il Centro Volontari per il Mondo di Ancona, con il coordinamento nazionale delle comunità di accoglienza con cui molti anni fa abbiamo avuto molto a che fare e con la comunità di Bose. Qui il cuore sanguina perché molti di noi sono legatissimi dagli anni 70 con la comunità di Bose e con le vicende che ha avuto negli ultimi anni siamo veramente molto abbattuti. Detto questo l'ho fatta un po' lunga ma mi sembrava importante come primo incontro così dare un po' il quadro della situazione e darei subito la parola all'autore Francesco Comina. Intanto buonasera e grazie davvero dell'invito a potere in qualche modo anche raccontare la storia, la vicenda di Franz Jägerstetter, questo contadino austriaco che appunto si è ribellato Hitler anche qui a Fano e mi fa molto piacere essere qui insieme a Roberto Mancini che insomma ha rappresentato anche per me tante cose. I grandi eventi che abbiamo fatto a Bolzano è anche lui è stato invitato varie volte a incontri, dialoghi per esempio con Agnes Heller ma anche con Gianni Vattimo eccetera. Quindi insomma davvero una figura di riferimento da cui appunto ho attinto anche io tanta luce su tanti temi dalla politica all'economia, al tema dell'etica, i diritti umani, insomma il lavoro anche con Riccardo Petrella sui beni comuni, insomma tante cose. E Luciano mi ha già dato tante suggestioni perché mi ritrovo in tante cose che abbiamo fatto anche in questi giorni. La giornata della memoria è appena passata, la memoria come sappiamo non è semplicemente la storia di 80 anni fa, la memoria è qualcosa di vivo che continua ad alimentare la nostra storia. Noi siamo figli di quella voragine del male che ci ha appunto dato questo, questo diciamo che insomma ci ha portati insomma a toccare questo fondo del disumano ma dall'altra parte siamo anche figli del bene e ci sono state alcune di queste figure come Franzi Grecci e tanti altri che proprio in quella cornice di male radicale hanno dato prova di bene supremo. Ecco quindi abbiamo appena salutato uno di questi soldati che appunto ha preferito il lager piuttosto che continuare a fare entrare appunto nelle milizie diciamo così fasciste e nazionalsocialiste insomma. Fiorello Zorzi 101 anni è morto a Bolzano, l'abbiamo accompagnato proprio in questi giorni alla morte e ci aveva raccontato proprio, lui aveva raccontato proprio questa storia appunto del lager, ne era uscito a pezzi con un polmone solo e aveva conosciuto la Zatti in uno di questi vicende appunto del lager in Germania e quindi insomma sono vicende che ci hanno appena accompagnato nella memoria dei giorni che abbiamo vissuto. E poi anche un po' le suggestioni di Luciano mi hanno anche fatto pensare alle dediche e tante volte non si ricordano le dediche che si danno ai libri, no? Perché hai citato il Mir? Mi sono dimenticato perché lo volevo dire dopo ma lo tiro dopo, vai pure. No, il libro l'ho voluto dedicare a Hildegard Gossmeier, a Jean Goss, che sono stati i fondatori del Mir, del Movimento Internazionale per la Riconciliazione. Hildegard è ancora viva, mi ha proprio scritto in questi giorni una bellissima lettera in cui mi ha esortato a raccontare la storia di Franz Egerstetter perché lei ha avuto un ruolo molto importante in questa storia. Questa donna viennese insieme al marito francese, partigiano anche il marito che ha appunto ha vissuto nelle pieghe della storia del Novecento e ha contribuito anche a dirimere alcune controverse, alcuni conflitti importanti, alcune guerre, insomma ha vissuto le tragedie dell'America Latina, dell'Africa e di alcune situazioni sconvolgenti anche dell'Asia. Quindi due figure di riferimento, lei è ancora viva e quindi insomma speriamo che ci accompagna ancora per molto tempo. Poi l'ho dedicato agli obiettori di ieri e oggi, anche io sono un obiettore di coscienza, quindi insomma questa storia dell'obiettore di coscienza penso che sia bello continuare ad alimentarla, ricordarla. E diciamo il tema della coscienza in questa storia di Franz Egerstetter è proprio un filo che accompagna tutta la vicenda di questo, poi ne parleremo. E poi l'ho venuto a dedicare a Ettore Masina, che è stato un compagno di viaggio, anche lui queste storie erano molto, lo catturavano molto, ha fatto la prefazione ad un libro che ho scritto precedentemente su una figura analoga a questa, Josef Maeronusser, un ragioniere, padre di famiglia di Bolzano, anche lui si era rifiutato di giurare fedeltà a Hitler, anche lui è morto dopo un processo di condanna. Quindi, insomma, tante cose, insomma, che sono venute già dall'introduzione di Luciano. Scusami se ti rubo un attimo il microfono per dire una parola su Ettore Masina. Noi qui a Fano abbiamo avuto un prete, un missionario, Don Paolo Tonucci. A dieci anni dalla sua morte, facemmo qui a Fano un convegno di alcuni giorni per ricordare la figura. E venne Ettore Masina. Io ricordo vivissimamente ancora oggi quello che disse Ettore Masina. Disse, io sono stato convertito da Don Paolo Tonucci. Una cosa che ci toccò moltissimo, perché Ettore Masina era un personaggio conosciutissimo, vaticanista, eccetera, sentire da lui queste parole, quando Don Paolo era stato il nostro viceparroco per diversi anni, prima di partire nel 65 in ottobre in Brasile, ecco, ci colpi molto. Quindi la figura di Ettore Masina, io la collego sempre con Don Paolo. Per noi, insomma, per molti fanesi, Don Paolo è stato veramente una figura straordinaria. Sì, abbiamo ricordato Ettore Masina anche qualche anno fa, insieme alla vedova, alla Clotilde. E lui era proprio interessatissimo a queste figure di questi giovani che avevano rifiutato il nazismo. E mi ricordo che la prefazione che ha fatto al libro su Josef Manus era bellissima, l'abbiamo spesso citata, proprio perché entrava, è riuscito, aveva questa capacità grandiosa, Ettore Masina, proprio da grande scrittore, proprio di entrare nei personaggi, no? Ha fatto uno dei libri più belli, secondo me, sulla vicenda di Oscar Romero. Il libro su Romero di Masina è una delle cose più belle che sono state scritte. Allora, veniamo a questa storia. Allora, ma intanto perché ho scritto questo libro? È un libro che non avrei mai pensato di scrivere, davvero, se la EMI, la casa editrice, non me l'avesse più volte richiesto e più volte avessi negato la possibilità di farlo, perché pensavo di non riuscire in qualche modo ad avere gli strumenti per ricostruire questa storia. Poi è successo che nel 2000, due anni fa, sono stato a Sant'Radegund, che è il paese natale di Franz Egerstetter, invitato dalle organizzazioni che ogni anno lì a Sant'Radegund organizzano i giorni della memoria intorno al 9 di agosto, il giorno del martirio, della morte di Franz Egerstetter, e parlai proprio nella fattoria dove tutta questa vicenda praticamente si svolge, proprio nella stube, cioè nel salotto di questa fattoria a Sant'Radegund. E lì mi è venuto subito in mente questo giovane, che era lì, che probabilmente in quelle stesse stanze parlava con la moglie, giocava con le bambine, pensava, meditava su quello che stava succedendo intorno a lui, scriveva i suoi diari, ha scritto tantissimo Franz Egerstetter. Allora ho detto, ma sì, forse posso farlo, insomma, forse posso in qualche modo, ecco, riuscire a calarmi nel personaggio. E così ho fatto. L'anno scorso mi sono calato in questo personaggio, ho cercato di muoverlo nel tempo e nello spazio, ed è venuto appunto questo racconto, che è un racconto storico, che ricostruisce appunto la vicenda di questo contadino, di questo giovane, umilissimo, semplicissimo, una figura veramente popolare, una figura del popolo, Matteo Zuppi, il cardinale di Bologna, presentando il libro, diceva, potrebbe essere un parrocchiano, insomma, una persona veramente semplicissima, che ha fatto una cosa grandiosa. Io, conoscendo altre vicende emblematiche, insomma, della storia dell'antinazismo tedesco, davvero penso che questa sia la storia forse più, da un certo punto di vista, più autentica, nel senso tutte le storie sono autentiche, ma questa è la storia più paradossale, più sconvolgente, da un certo punto di vista più commovente, più drammatica, ma allo stesso tempo anche più esaltante, di cosa può fare un singolo uomo, una persona singola di fronte a un mostro tentacolare, come era appunto il nazionalsocialismo. Questo giovane, di un paesino di 500 anime, nell'alta Austria, a 30 chilometri dal paese natale di Adolf Hitler, Braunau, con la quinta elementare, senza nessun tipo di rapporto, diciamo, accademico, di tipo politico, socio-politico, eccetera. Nell'assoluta solitudine, l'uomo più solo dei soli, è riuscito a fare cose che grandi intellettuali, grandi pensatori, grandi filosofi, non erano assolutamente riusciti nemmeno a pensare di fare, tant'è che appunto molte delle riflessioni che Franz Egerstetter fa, scrive nei suoi diari, noi le abbiamo conosciute negli anni 50, negli anni 60, il principio della responsabilità, il rapporto tra fede e politica, il tema dell'obbedienza, fino a che punto possiamo obbedire a leggi ingiuste, il tema della libertà, il tema di una fede matura, ci sono degli echi negli scritti di Franz Egerstetter che ritornano poi negli scritti di Dietrich Bonhoeffer, tra l'altro c'è anche una vicenda, la parte ultima della vicenda di Franz Egerstetter in qualche modo si collega anche a Dietrich Bonhoeffer, quindi c'è un uomo solo, totalmente solo, che arriva davvero ad affrontare il sistema più organizzato, diciamo, e più violento che abbiamo conosciuto nel Novecento, e la storia di Franz Egerstetter è proprio questa, un giovane di questo paese, un ragazzo anche un po' esuberante, un po' scapestrato, un monellaccio, diciamo così, di questo piccolo paese, che cresce come tutti, insomma una specie di ragazzo del muretto, potremmo dire oggi, cioè che fa le sue esperienze sentimentali, a cui piacciono molto le ragazze, che ha molte ragazze, che ha addirittura una figlia illegittima, fa una figlia con una contadina del posto, poi la madre non approva tanto questa relazione, quindi lui se ne scappa, se ne va via, poi ad un certo punto si innamora della moglie di un vicino di casa, e questo non la prende molto bene, quindi è costretto a scappare, scappa, sta via tre anni, se ne sta per un periodo a fare l'agricoltore nella vicina Germania, e poi va a lavorare, lavoro durissimo, nelle miniere della Stiria, un lavoro duro, ruvido, dove appunto, faticosissimo, e lì comincia ad entrare nella testa di Franz Egerstetter qualcosa, cioè comincia ad entrare in contatto con alcuni primi gruppi spontanei, in qualche modo, di questa corrente socialista che cominciava a profilarsi anche lì, e comincia a ragionare sul rapporto tra ricchi e poveri, oppressori e oppressi, sul tema della giustizia, dell'ingiustizia, tra l'altro, appunto, un ragazzo con la quinta elementare, che però ha anche una dote un po' anche letteraria, scrive poesie, ci sono tornati anche alcuni versi che lui scrive da ragazzo, per esempio, una poesia sul rapporto tra ricchi e poveri, tu uomo ricco, anche tu morirai, non la farai franca, pensa a questo, insomma, quando ti dovrai trovare di fronte al giudice supremo, insomma, poesie di questo tenore, quindi comincia a coscientizzarsi, comincia a iniziare un processo di coscientizzazione in qualche modo sulla situazione, sul dramma dei poveri, sulla realtà, sulla divericazione tra ricchi e poveri, eccetera, quindi comincia un po' a prendere coscienza del mondo, quindi secondo me la prima vera conversione avviene qui, avviene in Satiria, quando lui appunto fa questo lavoro difficile, duro, arido, del minatore, lì comincia, secondo me, già la prima conversione di quest'uomo, poi ritorna, ritorna nel paese, ritorna a fare la sua vita, già cambiato, e nel 35 avviene un episodio che appunto cambierà tutta la storia di Franz Egerstetter, ossia incontra la donna della sua vita, Franziska Schwaninger. Allora, Franz era un fantastico ballerino, così lo ricorda anche la moglie, cioè era uno che amava ballare, passava anche da ragazzo le giornate in questi gastro, del paese, a bere birra, a ubriacarsi, come tutti i ragazzi, quindi insomma amava ballare fino a consumare le scarpe, raccontava la moglie, e un giorno nel 35, nel settembre del 35, viene invitata a una festa da ballo in un paese vicino al suo, e lì incrocia gli occhi di Franziska, ed è un amore fatale, un amore improvviso, i due si incrociano, ballano insieme, e lei subito appunto viene tramortita, perché aveva anche un fascino, ci sono delle foto, non so se poi le possiamo fare vedere, dove si percepisce anche questa figura di giovane un po' esuberante, anche alla moda, c'è una foto di lui in motocicletta, lui aveva, si era comprato la prima motocicletta apparsa nel paese, una moto da corsa, c'è una foto dove lui vestito con un giubbotto di pelle, un chiodo, con la moto appunto che è attorniato da dagli, eccola qua, questa, quella prima, eccola qui, vedete Franz in moto davanti alla sua fattoria, quindi insomma anche un ragazzo moderno, no? E quindi abbiamo nel 35 questo momento di profondo amore, dentro questa giornata da ballo a Hochburg, in questa festa organizzata in un gasto, fino a un ristorante, e si innamora, un amore profondissimo, nel giro di sei mesi decidono di sposarsi, tra l'altro fanno un matrimonio molto frettoloso, a differenza appunto delle usanze di quei paesi dove insomma in qualche modo funerali e matrimoni erano parte diciamo della giornata, erano i momenti principali della giornata, loro fanno un matrimonio frettoloso alle sette e mezza del mattino e e poi decidono di spendere tutti i soldi che hanno per fare un pellegrinaggio a Roma, vanno in pellegrinaggio, visitano un po' le bellezze di Roma, vanno a Ischia, vanno a Capri e fanno questo viaggio di nozze, un viaggio che appunto gli crea sempre più unità tra di loro e Franz comincia a entrare nella lettura del Vangelo, nella lettura della Bibbia e tra l'altro il prete che li aveva sposati regala a Franz una Bibbia che lui legge avidamente durante il viaggio e questa lettura della Bibbia lo cambia profondamente, sono gli anni in cui sta avanzando il nazionalsocialismo in Germania, sono gli anni in cui cominciano a sentirsi le voci e anche lui le raccoglie dei campi di concentramento che venivano realizzati anche vicino a lui nella sua Austria, sono gli anni in cui comincia a girare la voce delle politiche di eutanasia messe in atto dal sistema, quindi la brutalità delle uccisioni di deboli, di persone affette da handicap psichico eccetera e quindi lui legge questo testo e non riesce a capire che cosa sta succedendo cioè da una parte legge le beatitudini legge l'amore per il prossimo legge l'etica profonda che anima questo libro e dall'altra vede quello che sta succedendo uccisioni politiche violente aggressive persecuzioni leggi razziali cioè entra in un conflitto profondissimo però il problema suo è che non trova nessuno che ha orecchie per ascoltarlo c'è qualche sacerdote vicino a lui con cui discute eccetera però per lo più c'è grande indifferenza c'è molta paura c'è molta rassegnazione e quindi entra in una situazione di conflitto già a partire dal 36 dal 37 poi nel 38 avviene un episodio che secondo me è rivelativo di tutta la sua vicenda io lo metto all'inizio del libro in realtà parto dal 38 e poi torno un po' indietro poi riprendo la vita di Franz dopo il 38 nel 38 come sapete avviene l'Anchelus in Austria cioè praticamente l'annessione dell'Austria alla Germania nel marzo del 38 a genere del 38 Franz ha un sogno si trova a casa con la moglie di notte e ha un sogno che è un incubo in realtà cioè un sogno brutto cioè sogna di un treno che entra prepotentemente nella sua Austria è un treno a cui corrono tantissime persone per cercare di prendere questo treno per salire su questo treno giovani ragazzi bambini anziani eccetera tutti che vogliono salire su questo treno e anche lui corre per salire su questo treno e sta per salire a un certo punto una mano lo prende da dietro e gli dice guarda che questo treno conduce all'inferno ma io ti porterò in purgatorio e dice io sono andato in purgatorio ho visto cose terribili quindi non oso pensare cosa possa essere stato l'inferno no? e poi a un certo punto si sveglia pieno di paura e racconta questo sogno a sua moglie il tempo passa due mesi dopo il treno per l'inferno entra realmente in Austria con l'Ancius cioè i nazisti entrano in Austria e c'è il referendum il referendum per decidere appunto da che parte stare in realtà un referendum che è un plebiscito cioè il 99,9% della popolazione dice di stare dalla parte di Hitler tant'è che addirittura la chiesa austriaca il cardinale di Vienna emana una lettera a tutti i vescovi dell'Austria dicendo di accoglierne i migliori dei modi Hitler addirittura il cardinale faissare la bandiera nazista sul campanile della cattedrale quindi questa è la situazione allora Franz discute con la moglie sulla posizione da prendere e all'inizio gli dice guarda io penso di non andare la moglie si spaventa gli dice di tutti i colori allora lui fa una passeggiata a meditare torna e dice no io vado voto no perché la cosa appunto la fa tramortire questa donna questa questa Franziska di cui poi dovremmo parlare perché Franziska ha avuto un ruolo determinante nella vita di Franz e torna a noi davvero come una grande eroina anche lei insomma decide di votare no va e vota no la cosa crea il panico tra la popolazione un po' alcuni perché vogliono in qualche modo difendere Franz perché si mette veramente nei problemi e quindi cercano di cestinare il voto come se lui neanche avesse votato lo fanno passare come un non voto sostanzialmente lui però è determinato comincia a dire pubblicamente la sua posizione che è quella di essere contro questo sistema contro questa violenza del sistema contro questo potere e comincia il suo vero dramma da questo momento perché non sa con chi parlare è davvero è davvero solo e lui fa tra l'altro è costretto a fare anche il servizio militare lo fa viene richiamato due volte per il servizio ordinario lo fa non è molto contento però lo fa la terza volta è invece la volta in cui decide di non andare perché non è più un servizio ordinario ma è un arruolamento nella Wehrmacht ma qui ci arriviamo un po' più tardi lui si trova appunto nel 38 in questa situazione non sa con chi parlare di queste cose perché lui comincia a sentire le grandi verità che ha dentro da una parte appunto il Vangelo dall'altra parte questa storia tremenda che incombe non c'è conciliabilità tra queste due cose e comincia a urlare le sue verità le urla nel paese e il paese lo prende come matto comincia a dire questo qua è diventato e tra l'altro cosa succede? come si fa? generalmente si dà la colpa alla moglie perché l'ha cambiato l'ha fatto diventare appunto un fanatico cattolico gli ha messo in testa idee strane è diventato una testa calda eccetera quindi da una parte il paese comincia a immarginarlo però anche la famiglia non è molto contenta la moglie che gli è sempre stata vicino però dice io sì gli sono stato vicino perché senza di me non aveva nessuno che gli stesse vicino però ovviamente noi avevamo tre lui tra l'altro nel 38 aveva già tre figlie tre bambine molto piccole e quindi insomma padre di famiglia con una fattoria da gestire con il lavoro duro faticoso del contadino da portare avanti quindi anche la famiglia insomma si cerca in tutti i modi di fargli cambiare idea però poi c'è la chiesa è la chiesa che predica questi principi da che parte sta allora va a trovare il vescovo il vescovo di Linz Flisser che era un vescovo un po' timoroso comunque un mediatore non era una cattiva persona però insomma non era neanche diciamo un grande profeta e va a cercare questo vescovo e decide di andare appunto a fare un incontro ad incontrarlo nella diocesi di Linz e va insieme alla moglie che rimane fuori lui va dentro parla con questo vescovo e gli porta undici domande undici semplicissime domande cioè domande del tipo può un cristiano obbedire a leggi ingiuste può un cristiano mandare andare sui fronti ad ammazzare persone di un paese nemico soltanto perché gli dicono di andare a ammazzarle può un cristiano sostenere un regime che perseguita la chiesa undici semplici domande il vescovo rimane praticamente non sa che cosa dire rimane in silenzio lo manda fuori e mentre scende le scale la moglie gli dice ma che cos'è successo perché vede Franz un po' affranto ma cos'è successo Franz e lui gli risponde ma guarda questi qui hanno paura perfino della loro ombra questa e qui comincia appunto un'interlocuzione molto molto insistente di Franz con la chiesa molte lui annota molte riflessioni critiche nei confronti della posizione della chiesa le guide addormentate della chiesa questa chiesa che non sa non sa muovere la profezia che vorrebbe alimentare una chiesa intimorita preoccupata no e comincia a scrivere Franz scrive tantissimo questa è un'altra grande cosa che 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 determina questa questa storia cioè ci rimangono tantissimi scritti di Franz scritti politici scritti di riflessione appunto sulla chiesa sulla fede e tantissime lettere perché ad un certo punto quando Franz poi decide di rifiutare di entrare nella verba ovviamente comincia la trafila dei dei passaggi di prigione in prigione e ci sono rimaste tantissime lettere di Franz a Franziska ma lettere molto commoventi molto profonde anche diciamo anche lettere in cui si lamenta no dell'atteggiamento di alcuni familiari che lo criticano perché appunto ha moglie e figli una persona che ha moglie e figli non dovrebbe comportarsi così no si lamenta perché dice ma voi cosa avete avete mai letto questo Vangelo che cosa dice questa parola no quindi comincia questa trafila appunto di prigione in prigione lui viene incarcerato nel 41 praticamente viene arriva la lettera nel febbraio del 41 di presentarsi nella Wehrmacht in un paese vicino al suo e lui entra in una situazione di grave tormento per una settimana non sa davvero che cosa fare posticipa il viaggio cerca di scappare poi ritorna ad un certo punto decide di partire per andare finalmente a consegnarsi in caserma e dire il suo forte no però prende il treno che va dalla parte opposta si ritrova a Monaco poi da Monaco torna indietro e va in questo paese va in caserma e non dice nulla poi esce va dal parroco del paese sta una notte di riflessione in chiesa e finalmente si presenta e dice appunto che lui non è non può legittimare quel sistema viene incarcerato tenuto nelle carceri austriache per qualche mese e poi viene portato viene diciamo lo mandano a Berlino proprio nella sede del Reich nella nella prigione del Reich tedesco a Berlino e lì passa a Tegel alcuni mesi nel carcere dove era incarcerato Dietrich Bonhoeffer non si sa se i due si sono mai incontrati ovviamente non lo possiamo sapere però erano proprio gli stessi mesi in cui appunto Dietrich Bonhoeffer era era incarcerato in quel carcere allora gli ultimi mesi di Franz sono mesi in cui lui è sempre più determinato nella sua scelta c'è un momento molto commovente di questa ultima fase che è l'incontro con la moglie perché ad un certo punto l'avvocato che non sa più che pesci pigliare di fronte a questo giovane che continua a rivendicare la sua decisione di rifiutare questo sistema decide di invitare di chiamare la moglie e il parroco ad incontrarlo e c'è questa scena in cui è raccontata molto bene tra l'altro nel film di Malik dove appunto la moglie col parroco vanno a Berlino è una scena straziante perché la moglie gli corre incontro per abbracciarlo e i soldati li separano una scena un colloquio che dura 20 minuti e parla solamente il parroco e il parroco decide in tutti i modi di convincerlo a ritrattare perché fino all'ultimo lui avrebbe potuto salvarsi la vita e gli butta addosso tutte le sue responsabilità di padre di contadino di marito le figlie eccetera e gli butta addosso appunto che lui è contro i comandamenti di Dio eccetera e poi viene questo bacio con Franziska strappato e poi lui viene riportato in carcere tra l'altro lui scriverà una lettera poi alla moglie in cui critica fortemente l'atteggiamento che hanno avuto nei suoi confronti dicendo ma siete venuti qua a dirmi che io ho figlia ho una moglie ho delle figlie eccetera ma scusate ma non sta scritto nel Vangelo non avrai né padre né figlia né moglie no? ma cosa mi venite a dire? venite fino a Berlino per dirmi queste cose? e quindi continua la sua scelta ad un certo punto viene c'è appunto il processo viene condannato a morte dalla dal momento della condanna a morte i condannati venivano tenuti incatenati per paura che potessero in qualche modo togliersi la vita quindi lui rimane incatenato e incatene scrive il suo testamento ultimo il suo testamento spirituale scrivo con le mani legate ma preferisco così piuttosto che mi venga legata la mia volontà sono gli ultimi momenti lui viene condannato a morte il 9 appunto agosto del 1943 e c'è un colloquio che è veramente commovente e drammatico l'ultimo colloquio che lui ha con il cappellano delle carceri pochi istanti prima di andare sul patibolo e in questo colloquio questo sacerdoze che si chiama Kreuzberg parla con lui e ad un certo punto questo Kreuzberg gli dice che un mese un anno prima esattamente un anno prima era stato condannato allo stesso modo con la ghigliottina un giovane frate un pallottino di Innsbruck che anche lui aveva motivato la sua scelta di rifiutare il nazionalsocialismo per una questione appunto di amore di Dio di pace di giustizia eccetera e Franz ha una reazione inaspettata cioè gioisce è contentissimo e dice ma come allora significa che non sono non ho non ho intrapreso una scelta sbagliata io sono nel giusto se un altro prete ha fatto la stessa cosa vuol dire che sono sulla strada giusta pensate questa questa sensazione di solitudine che deve aver avuto quest'uomo che si trova a dover lasciare la moglie le figlie tutto quanto e che ha tutti contro tutti anche gli amici più stretti in qualche modo gli sono contro pensate di cui non sapeva niente che altre situazioni erano più o meno c'erano altre persone altri sacerdoti altri gruppi che vicino a lui avevano fatto la stessa cosa totalmente scollegato da tutto lui era fedele a questa parola è rimasto fedele fino in fondo ed una fedeltà appunto dal basso una fedeltà umile lui aveva letto aveva letto anche parecchi libri aveva ereditato la biblioteca la biblioteca del nonno tra l'altro ci sono dei passaggi negli sui scritti anche molto belli sulla lettura perché da ragazzo con la quinta elementare lui aveva capito che la lettura fa la differenza scrive una lettera al figlioccio lo aveva questo figlio dello zio che si era praticamente preso in carico lui quando lo zio era morto gli scrive una lettera ancora all'inizio della sua storia diciamo parliamo degli anni del 33 34 in cui raccomanda questo figlioccio di leggere tanto perché una persona che legge è una persona che ha i piedi piantati per terra e i poteri non possono schiacciarlo no? sembra quasi sentire il riverbero di 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 Paolo Freire no? di la liberazione dall'oppressione arriva attraverso la presa di coscienza delle parole no? la coscientizzazione quindi era tutto sommato nonostante la sua povertà di mezzi era uno che comunque aveva letto aveva cercato di capire le cose e quindi lui si trova in questo momento ultimo a capire che qualcosa forse si stava muovendo in questa in questa in questa storia che non era forse da solo che forse altri da qualche parte avevano posto gli suoi stessi problemi quindi va diciamo alla morte in qualche modo gratificato da questa da questa da aver raccolto questa questa voce e il 9 agosto lui muore e tra l'altro con una condanna praticamente per obiezioni di coscienza il giorno della condanna a morte erano più o meno una ventina di persone che venivano condannate insieme a lui quasi tutti penso 19 erano testimoni di Geova quindi forse dovremmo anche in qualche modo tornare su questa storia no sull'importanza che i testimoni di Geova hanno avuto dentro questa storia dell'obiezione di coscienza sotto il regime nazional socialista e il 9 agosto del 1943 insomma in qualche modo si chiude la diciamo la parte storica della vita di Franzi e Ghercette ma il libro non finisce qui perché c'è una terza parte ancora più importante forse anche delle altre che è il dopo il dopo questa storia perché il dopo è quasi più crudele per certi versi del prima perché dopo la morte di Franzi e Ghercette i due anni che rimangono appunto di regime la moglie viene totalmente messa ai margini di leggiata accusata delle peggiori cose nessuno la vuole salutare nel paese tutti la considerano in qualche modo la responsabile del cambiamento di testa di Franzi e Ghercette quindi totalmente marginata ma quello che succede dopo è ancora peggio perché l'emarginazione della moglie delle figlie della famiglia continua fino agli anni 80 praticamente nessuno vuole parlare con questa donna e addirittura il ministero degli affari sociali di Vienna gli nega il sussidio che veniva dato a tutti diciamo i morti alle famiglie che avevano avuto morti in guerra quindi come in qualche modo come contadino che aveva sulle spalle una fattoria avrebbe dovuto avere i contributi il ministero degli affari sociali per alcuni anni gli nega i contributi questa storia va avanti così praticamente fino al 1980 l'Austria non vuole assolutamente parlare del caso Jägerstetter nella prima parte probabilmente una sorta di rimozione anche rispetto a quelle vicende ma dopo c'era molta paura perché Franz Jägerstetter rappresentava una coscienza critica una coscienza critica rispetto sia all'atteggiamento della chiesa che ha tenuto durante il nazismo un atteggiamento molto ambiguo un atteggiamento molto remissivo se non addirittura di solidarietà in qualche modo con il nazismo in gran parte nelle diocesi e poi anche da un punto di vista politico rappresentava un problema perché lui era andato da quella parte e tutti gli altri dall'altra raccontava che il vescovo che finalmente negli anni 80 aveva deciso di sollevare la vicenda di Franz Jägerstetter di avviare finalmente negli anni 80 il processo di beatificazione aveva avuto delle minacce da parte appunto della situazione dei veterani di guerra eccetera minacce che arrivavano addirittura a dirgli guardate noi non verremo più a messa diserteremo le messe eccetera era quello il clima che si respirava ma anche a livello intellettuale culturale non c'era possibilità di rompere questo muro ci aveva provato un regista negli anni 70 di fare un teatro una rappresentazione teatrale su Franz Jägerstetter totalmente disertata non è stata assolutamente accettata questa cosa e finalmente negli anni 80 avviene la svolta ma perché avviene questa svolta perché di mezzo c'è l'America allora e questa è una cosa curiosa è successo così anche a Franz Jägerstetter di fatto queste figure non sono state capite e valorizzate nei loro paesi in Sud Tirolo Joseph Mernusser per tanto tempo è stata è una figura ancora oggi tutto sommato non è molto ben accolta ci è voluto un gesuita tedesco di Monaco per farci conoscere quella storia e la stessa cosa è stata per Franz Jägerstetter alla fine degli anni 50 un sociologo americano Gordon Sun che era collegato con il movimento per la pace contro la guerra in Vietnam eccetera aveva raccolto era venuto in Europa aveva fatto un lungo viaggio in Germania e aveva raccolto questa storia di Franz Jägerstetter e aveva deciso di scriverci un libro nel 62 un libro che aveva creato un eco enorme in America era stato raccolto da alcune grandi figure dell'America di quegli anni come per esempio appunto Thomas Merton che nel 64 scrive un libro fede e violenza praticamente quasi tutto dedicato a Franz Jägerstetter tra l'altro in Italia è un libro che esce nel 68 con le prefazioni di Balducci dove lo stesso Balducci parla di Franz Jägerstetter quindi diventa un caso diventa un punto di riferimento diventa una bandiera in America negli anni 60 l'uomo giusto che ha contrastato una guerra ingiusta quindi se ne parla tantissimo in America e appunto comincia a muoversi anche l'interesse dei giornali che cominciano a chiedere come mai in Austria nessuno ne vuole parlare di questa storia mentre in America viene raccolta all'interno addirittura del movimento pacifista americano addirittura ci sono canzoni ci sono ancora oggi dei comitati Franz Jägerstetter in America per dire quindi è stato grazie alla mediazione americana se noi oggi in qualche modo abbiamo potuto raccogliere questa eredità fino a che a un certo punto questa pressione da parte americana ma non solo addirittura Franz Jägerstetter questo mi riallaccia anche al tema vostro entra in concilio Vaticano II perché un arcivesco di Bangkok decide di citare Franz Jägerstetter come punto di riferimento per tutto il lavoro sull'obiezione di coscienza quindi nella sessione dedicata all'obiezione di coscienza Franz Jägerstetter viene citato come esempio di uomo di giovane che ha scelto di stare dalla parte della coscienza contro appunto l'imposizione dell'obbedienza a un sistema dittatoriale tant'è che poi questo nome torna anche nel dibattito italiano sono gli anni in cui Don Lorenzo Milani comincia a lavorare sul tema dell'obiezione di coscienza e Franz Jägerstetter diventa in qualche modo un anello un punto di riferimento di tutto questo di questa riflessione profonda sull'obiezione di coscienza ecco quindi finalmente negli anni 80 avviene la svolta parte del processo di beatificazione Franz Jägerstetter viene beatificato nel 2007 con la moglie ancora viva la moglie è morta a 101 anni quindi ha avuto anche la possibilità in qualche modo di mettere un piede nella terra promessa come dire di avere la gratificazione finalmente il riscatto di questa storia e lì è iniziata appunto la nuova la nuova storia di Franz Jägerstetter che è arrivata fino a noi con questo bellissimo film tra l'altro di Terrence Malick che rilancia la figura di Franz Jägerstetter a livello internazionale un film purtroppo che ha dovuto subire il blocco un po' della pandemia però era stato era partito nel 2019 proprio da Cannes aveva vinto Cannes un film bellissimo non so se l'avete visto un film stupendo dove appunto Malick un film che dura tre ore ricostruisce appunto la storia di Franz Jägerstetter e da allora insomma anche in Austria se ne parla diffusamente anche se della verità anche in Austria non è così conosciuto ci sono ancora delle resistenze su questo caso come in Sud Tirolo ci sono ancora resistenze sulla vicenda di Josef Maernus ecco possiamo dire forse chiudendo che come è successo per Oscar Romero che appunto John Sobrino ci diceva che probabilmente Cristo si è fatto nuovamente vedere in Salvador attraverso la storia di Oscar Romero forse in Austria in quella situazione terribile di male radicale Dio si è fatto di nuovo presente attraverso la vicenda umile e semplice di Franz Jägerstetter l'uomo solo contro Hitler appunto che si è messo da solo contro Hitler e che ha avuto questo sogno appunto che nella lettura che ne faceva Agnes Heller è curiosa questa cosa Agnes ha scritto un libro uno degli ultimi libri che ha scritto lei è sul tema dei sogni un'analisi del sogno da un punto di vista filosofico psicanalitico e anche biblico e lei ci raccontava in questa rivisitazione del sogno che il sogno tipico della Bibbia è il sogno notturno non è il sogno diurno è il sogno notturno Dio parla attraverso i sogni notturni e sceglie in genere persone semplici persone del popolo per fare per anticipare la verità che verrà e probabilmente in questo senso anche la storia di Franz e Grestetter entra in questo flusso del grande sogno biblico di un uomo semplice che è stato chiamato a dire la verità sulla storia grazie grazie a Francesco una storia veramente una vicenda ricchissima e non ci sono non c'è certo bisogno di altri stimoli da dare a Roberto per le sue riflessioni grazie a tutti buonasera grazie Luciano dell'invito è un piacere anche trovarsi con Francesco direi che ha fatto un ottimo lavoro con questo testo perché veramente è un testo avvincente nel contempo fedele non è un testo apologetico e permette a chi lo legge di un po' ripercorrere questa storia come se un po' fosse possibile farlo dall'interno ecco quindi è veramente un testo che va al di là diciamo di sovrastrutture ideologiche o anche teologiche cioè molto direi un testo incarnato che parla proprio di questa esperienza di Franz Jägerstetter direi questo a me ha fatto pensare al di là di alcuni passi veramente commoventi che insomma interpellano fortemente però mi ha fatto pensare mi ha rimandato a questo genere che c'è letterario nei Vangeli che è la parabola cioè ascoltata questa storia noi che la ascoltiamo qual è la reazione che può venirci da un lato di ammirazione di stupore per la coerenza anche se avete visto non è una coerenza diciamo moralistica no? era un ragazzo amante della vita dei piaceri della vita delle passioni non c'aveva nulla diciamo del santino era una persona come noi con le contraddizioni però una grande coerenza che non era affidata tanto al rapporto tra noi e i nostri principi quella è un po' una coerenza ideologica e spesso serve a giudicare gli altri l'immagine dell'atteggiamento farisaico nei Vangeli quelli cercavano la coerenza in ogni gesto della vita e quindi volevano normare regolare ogni gesto della vita proprio per il cruccio della coerenza qui un'altra coerenza cioè di uno che sperimenta una trasformazione del proprio modo d'essere sotto questa pressione fortissima del totalitarismo insomma dell'oppressione nazista del vedere anche i propri vicini le persone care le persone di sempre che hanno questa mutazione genetica per cui tutti chinano il capo tutti diventano conformisti o per paura addirittura zelanti verso questo potere che stava conquistando l'Europa lui invece ha una conversione che veramente è una nuova nascita che è proprio la categoria evangelica come voi sapete cioè entra in un altro modo di vivere non perché appunto ricordava Francesco ha studiato perché si è formato perché ha fatto gli esercizi spirituali o perché frequentava tanto i sacramenti in realtà è proprio un'adesione del cuore dell'anima del modo d'essere di questa persona alla verità del Vangelo e lì per esempio già si vede già questo ci sollecita ci interroga è chiarissimo che per lui il Vangelo non è un testo noi stessi facciamo fatica se tu chiedi a uno che è stata ammessa quando esce che diceva la lettura di oggi certe volte non si ricorda neppure perché sembrano parole scritte nell'acqua se non ci hanno corrispondenza col modo di esistere lui capisce che il Vangelo è una forma di vita il Vangelo è vita non è una dottrina non è una teoria non è riservato ai cristiani non è proprietà dei cristiani il Vangelo è un percorso di vita finché non passi per questa trasformazione che vuol dire anche no affrontare in un certo senso la messa in discussione di tutto quello che per noi è essenziale diciamo il nostro primo attaccamento naturale alla vita che è egocentrico che veramente ci porta a dire prima io o prima noi quanto lo sentiamo ancora oggi in Italia nel dibattito politico nelle vicende tra fratelli prima io oppure prima noi prima gli italiani quello è il sintomo un po' diciamo avvilente del nostro attaccamento naturale il primo attaccamento cioè tu vuoi il tuo ambiente la tua lingua il tuo paese i tuoi piaceri le tue difese le tue gratificazioni e non sei disposto a perderle magari li rivesti di cristianesimo in fondo la pratica religiosa non è esigente anche i mafiosi fanno le processioni anzi ci tengono tantissimo quindi di per sé la religione come pratica esteriore non disturba anzi diciamo decora una vita tutta egocentrica tutta fatta di egoismo di non percezione della vita degli altri di non percezione del bene comune colui invece sperimenta questa nuova nascita c'è un altro attaccamento l'immagine evangelica è quella di un albero che va a mettere radici su un altro terreno e per noi questo è il passaggio difficile che è facilissimo cogliere i cristiani in contraddizione perché tra tutti quelli che si dicono cristiani quelli che sperimentano veramente questa nuova nascita beh sono pochi così come magari tu li ritrovi in ambiti immondi dove non ci sarebbero ufficialmente i cristiani eppure hanno sperimentato questo percorso quindi vedete non coincide ufficialmente una cosa che francesco ha sottolineato che colpisce l'appartenenza ecclesiale formale ufficiale e il vivere il vangelo non coincidevano era una rarità trovare un cattolico doc che vivesse il vangelo stavano abbastanza dalla parte del nazismo e del fascismo nel 33 i vescovi tedeschi fanno una lettera come fosse la nostra cei oggi i vescovi tedeschi fanno una lettera dove ringraziano Hitler che ha appena preso il potere perché fermerà il pericolo bolshevico loro questo ci avevano capito del nazismo del fascismo e sono errori diciamo di prospettiva e di infedeltà al vangelo che naturalmente ricorrono ecco perché dicevo una parabola cioè non è che possiamo rassicurarci dicendo sono cose degli anni 40 del novecento sono cose che riaccadono in forme diverse ma è un invito permanente alla vigilanza ma ancora di più a verificarsi cioè a che punto siamo noi sia come singoli sia come comunità perché la nuova nascita non riguarda solo i singoli riguarda anche le comunità la conversione non riguarda solo la persona riguarda la chiesa e una chiesa che non si converte come farà essere chiesa cioè come farà rendere testimonianza credibile della fraternità della sororità che riguarda tutti sin le creature della natura come diceva Francesco e come ha ricordato Papa Francesco nella Laudato Si allora Franz è uno che sperimenta questa nuova nascita non per studi non per condizionamento ambientale anzi al contrario colpisce anche Francesco lo sottolineava la grande solitudine di quest'uomo che però attenzione era una solitudine se volete sociale ma sicuramente non era una solitudine spirituale nel senso che lui aveva un terreno su cui radicarsi cioè insomma questa scelta non se l'è inventata per un fanatismo ideologico non era proprio il tipo d'uomo che faceva valere un principio in quanto concetto questo ha fatto valere una relazione profonda con quel Dio che sperimentava non come astratto ma nel Vangelo come forma di vita cioè questo era molto meno solo di quelli che lo contrastavano anche se quelli che lo contrastavano erano tantissimi erano il suo ambiente il suo paese le istituzioni del suo paese perfino la sua chiesa lui era meno solo perché aveva un'esperienza di Dio questo conta cioè aveva un'esperienza di Dio che lo generava per una forma nuova di vita allora io credo che lui sia veramente diciamo il significato del suo percorso da come emerge dal libro di Francesco una parabola lo sapete che vuol dire cioè un racconto che apparentemente riguarda una storia lontana da noi nel tempo e nello spazio vicende diverse se uno si incuriosisce pure l'ascolta poi se è un po' intelligente i Vangeli dicono i farisei dice capirono che parlava di loro cioè se uno un po' sta con le antenne dritte capisci alla fine che la storia ti riguarda è uno specchio questa storia è uno specchio non perché noi viviamo in un'epoca analoga la nostra epoca è tutta diversa non è come gli anni 30 gli anni 40 in Germania però per altri aspetti diciamo le forme del male organizzato perché il nazismo il fascismo il totalitarismo erano il male organizzato che mette radici nelle coscienze delle persone per disintegrarle e la disintegrazione delle coscienze è la condizione perché sopravvivano i sistemi del male organizzato altrimenti non potrebbero durare altrimenti crollerebbero pensate quando c'è un regime totalitario che si è aperto o che sia come usa oggi una finta democrazia quali sono le due cose che teme un regime di potere dominativo allora teme le nuove generazioni e teme il pensiero critico lo studio la scuola la formazione la libera ricerca queste due cose teme soprattutto se si incrociano per carità le deve reprimere allora noi oggi in forme diverse non siamo in una situazione esente dall'impatto del male organizzato tanto che addirittura la potenza di questo male organizzato sta distruggendo la natura sta facendo vittime da tutte le parti vittime per via economica vittime per dominazione dei popoli colonizzati dove il colonialismo non è mai finito pensate noi italiani i nostri in fondo si può dire senza qualunquismo i nostri partiti il nostro parlamento il nostro governo purtroppo senza troppe differenze poche eccezioni ci sono però finanziano la Libia perché tenga i lager i campi di concentramento per fermare i senegalesi gli afghani i siriani che lì vengono stuprati torturati sfruttati decidono loro se ci fanno un affare li fanno partire o non li fanno partire e l'Italia che fa l'Italia capite dove anche noi abbiamo la nostra quota di complicità non è che possiamo neppure dire il governo i partiti anche noi paghiamo la Libia perché i migranti non ci devono disturbare capite è una forma più subdola indiretta noi non vediamo campi di concentramento non vediamo torture non vediamo il sangue però alla fine se io vado a confrontare e dico ah ma quelli di quel tempo dove stavano perché accettavano quelle cose ma noi siamo sicuri che non diranno la stessa cosa di noi e diranno ma gli italiani di quel tempo ma perché accettavano quelle cose allora capite la responsabilità ci investe ancora oggi la differenza che noi oggi dobbiamo registrare è che certo in forme spesso più subdole apparentemente più nascoste ma in un'epoca in cui le informazioni circolano i video i documentari le testimonianze come è possibile accettare per esempio che le navi che aiutano le persone a scamparsi vengano definite i taxi del mare come è possibile continuare con i muri con i respingimenti addirittura l'idea che chi li aiuta commette reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina abbiamo accettato pure queste cose che la solidarietà fosse criminalizzata che la giustizia fosse impedita per legge che fosse decretato che qualcuno solo perché esiste è bollato come clandestino come dire tu non devi esistere perché noi con il nostro passaporto possiamo viaggiare in circa 180 190 paesi della terra e un senegalese se ha un passaporto non ci fa niente perché nessuno lo vuole e non è lo stesso diritto il diritto di migrare è sancito dalla dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e del cittadino è uno dei diritti umani e la nostra costituzione all'articolo 10 non fa affatto la distinzione tra migranti che scappano dalla guerra e migranti che scappano dalla fame perché dice che la Repubblica italiana accoglie tutti coloro i cui diritti non vengono i cui diritti nell'insieme non vengono rispettati nei paesi d'origine questo è il dettato costituzionale quindi quel dibattito migranti economici no migranti per la guerra sì è completamente l'ignoranza lo stravolgimento della nostra costituzione questo è solo un esempio potremmo parlare di economia di ecologia cioè vedremo che le forme del male organizzato sono talmente diffuse che in fondo anche molti di noi a prescindere se siano o non siano cattolici praticanti però chinano la testa come si dice si fanno gli affari loro e ancora oggi questo rischio che vedevamo dove invece l'immagine negativa di questa chiesa austriaca che è reticente come minimo se non complice quando Francesco ha detto beh è cambiato verso gli anni 80 cioè io ho avuto un brivido la guerra è finita nel 45 verso gli anni 80 dice ma ancora oggi e voi sapete che anche da noi anche in Italia senza fare la caricatura del tedesco cattivo dell'austriaco succube del tedesco beh in Italia la mentalità fascista parafascista è endemica abbiamo mille manifestazioni sui social se andate a predappio diventa anche occasione di business vanno in pellegrinaggio nel paese di Mussolini abbiamo forze politiche che secondo i sondaggi prendono tanti voti che sono contigue a questa mentalità c'è poco da fare e noi come se non lo sapessimo andiamo avanti sono chiaramente incostituzionali però sono tra le forze principali del nostro scenario politico allora questo inquinamento del totalitarismo come mentalità questa resistenza alla parola di Dio per cui alla fine tiriamo a campare insomma la religione e pratica religiosa ecco questo ecco è un invito fortissimo che viene da questa storia l'altra cosa che vorrei sottolineare questo incrocio che Francesco ci diceva non sappiamo se si sono conosciuti ma Jägerstetter è stato nello stesso carcere di Tegel di Dietrich Bonhoeffer e voi sapete Bonhoeffer è stato uno delle vette della teologia del novecento proprio su questo tema cioè dell'alternativa tra l'essere cristiani o l'essere conniventi col nazismo è stato accanto a una terza figura un altro gigante della teologia del novecento Karl Barth che aveva ispirato la cosiddetta dichiarazione di Barman del 34 dove si era posto il problema cioè la chiesa o sta dalla parte di Cristo oppure sta dalla parte del Führer e era un dibattito che c'era allora Bonhoeffer ha tematizzato ha esplicitato in chiave teologica nelle sue lettere le ultime lettere se ancora non l'avete letto insomma prendetelo è uno dei testi più belli della teologia del novecento resistenza e resa dove sono raccolte le lettere dal carcere di Bonhoeffer lui aveva riflettuto da teologo era tornato lo sapete nel 39 dagli Stati Uniti dove stava in Germania per responsabilità diceva io devo condividere il destino del mio popolo e sapeva grosso modo quello a cui andava incontro allora Bonhoeffer che fa rispecchia teologicamente quello che vive Franz veramente questi sono fratelli sono oggettivamente convergenti e che aveva detto di così scandaloso di così radicale Dietrich Bonhoeffer che anche in fondo la nostra teologia alla fine ha liquidato dicendo ma no ma questo esagerava lui aveva fatto una netta distinzione come c'era in Barth tra la fede e la religione che presa così certo un po' schematica uno dice vabbè staranno intrecciate staranno insieme però che voleva dire che la religione diventa alla fine un sistema di potere che ci costruiamo noi dentro una certa immaginazione di Dio ovviamente con poca fantasia Dio giudice Dio architetto del mondo Dio mago che arriva e quando vuole lui risolve i problemi come si immagina l'essere umano come se lo immagina Dio un giudice un architetto un mago poi se proprio non portano i conti ti scandalizzi dice no io non credo però anche l'ateo se lo immagina esattamente così non c'è nessuna differenza tra il credente convenzionale e l'ateo convenzionale per loro Dio è quello solo che il credente dice sì ci credo che esiste l'altro dice no non può esistere però se lo immagina così tanto che se la persona è atea e gli dici guarda forse Dio è un po' diverso ci resta male perché lui ha rifiutato quel Dio lì e conosce quel Dio lì che magari è incontrato in catechismo in seminario no invece qui emerge in Buoneffere un'idea anzi un'esperienza anche da parte sua profondamente altra e dice noi abbiamo costruito in Europa nei secoli una religione cioè una civiltà una cristianità un grande sistema di potere che alla fine ha partorito i totalitarismi che sono nati nel seno dell'Europa cristiana allora quando tu entri in una mentalità di potere poi la religione la politica l'economia i rapporti familiari alla fine sono tutti inquinati da un tasso di violenza di misconoscimento che può esplodere fino a queste forme ma l'humus era già in questo tradimento in questa rimozione del Vangelo per cui abbiamo preferito la cristianità che dicevamo noi al cristianesimo dei Vangeli non dovremmo parlare di radici cristiane dell'Europa ma di radici europee del cristianesimo che diciamo noi cioè ce lo siamo plasmato secondo la nostra mentalità che era proprio quello che Gesù di Nazareth diceva di non fare non era quello il senso era proprio l'apertura a un altro messaggio e allora Bonhoeffer dice invece la fede è quell'affidamento cioè vuol dire quella adesione con la vita credere significa vivere non è che significa pensare con la testa che Dio esiste crede veramente chi vive secondo il Vangelo non è possibile la scissione tra quello che pensi con la testa e quello che vivi nella quotidianità quella non è fede è ideologia è una credenza qualsiasi che è compatibile allora con tutto col capitalismo col nazismo col potere con quello che volete col maschilismo questo scandalo che ancora permane il maschilismo dentro la chiesa dentro le religioni e non c'è verso di scalfirlo da un millimetro sì adesso vediamo se facciamo le diaconesse che passo avanti pensateci il Sudafrica si è liberato dell'apartheid tra bianchi e neri le religioni non ce la fanno a liberarsi dell'apartheid tra il mondo maschile e il mondo femminile perché è la mentalità di potere Bonetfero allora diceva sollecitato da questo scandalo clamoroso cioè la cristianità che nel suo seno certo con altri fattori mica solo la cristianità partoriva il nazismo allora dice un conto è la religione cioè il Dio che ci facciamo noi e lo adattiamo alle nostre convenienze chi di noi non conosce questa contraddizione certo la fede è l'adesione alla vita di Dio alla qualità di amore di Dio che ti porta oltre queste barriere ti rinnova la vita e dove si vede il banco di autenticazione cioè da che cosa si capisce che tu sei nato nuovamente e ti può capitare da ragazzo da adulto da vecchio cioè non c'è una non c'è una cronologia secondo le nostre usanze del calendario dell'orologio no può essere un evento della vita che ti deve trovare aperto e Bonetfero dice nell'essere per l'altro ridefinendo completamente il concetto di responsabilità il concetto convenzionale di responsabilità proprio di lì pochi anni prima l'aveva formulato Max Weber questo grande filosofo sociologo tedesco diceva sì il Vangelo può essere un'intenzione ma se io sono un sindaco un capo di stato ho una responsabilità devo applicare l'etica della responsabilità diceva Weber cioè vuol dire devo anche entrare in conflitto devo anche usare la violenza contro chi è altro chi è straniero chi è nemico per tutelare la mia parte devo essere tra virgolette responsabile quindi la responsabilità da Weber che pur era un genio era iscritta dentro il codice del potere i miei contro gli altri Bonheffer scardina tutta questa mentalità perché finalmente ha capito di fronte ai cristiani che fanno complicità con i nazisti finalmente ha capito qual è il vero cristianesimo e dice la responsabilità è l'esistere per gli altri allora quando noi ci decentriamo anziché mettere il prima io diciamo prima l'altro rovesciamo esattamente questa logica quello è l'esperienza del cristianesimo che non è una religione in più ma è la nascita della pienezza della nostra umanità allora questo diceva Bonheffer dicevo la teologia l'ha archiviato velocemente mediamente tranne qualche eccezione i nostri teologi dicono ma no ma la fede non può vivere senza religione cioè bisogna che hai dei luoghi delle tradizioni che hai il catechismo che hai la liturgia che hai la processione che hai Radio Maria che hai Padre Pio e mica vorrei fare senza queste cose Bonheffer non è che diceva cancelliamo tutto ma diceva se non c'è questa qualità di conversione è inutile che fai il catechismo la liturgia diventa un'ipocrisia i sacramenti diventano una finzione cioè ha colto l'essenza del Vangelo come forma di vita allora in questo messaggio lui non fa che rispiecchiare teologicamente io la chiamerei così l'esistenza teologica di questo contadino austriaco che come ha detto Francesco non era un intellettuale non era un santo non era un eroe non era un capo politico non aveva interesse a conquistare un consenso è uno che da solo ma in realtà per nulla da solo perché faceva esperienza della vita di Dio della presenza di Dio e la prendeva sul serio allora lui è riuscito a realizzare quello che Bonheffer anche lui dal carcere impiccato nell'aprile del 45 proprio a pochissimi giorni dalla fine della guerra aveva finalmente capito superando tutta la sua formazione tutta la sua storia perché pure lui era un pastore aveva vissuto dentro la chiesa quindi insomma quando critica la religione sta criticando anche il suo percorso però è arrivato allo stesso punto di convergenza si sono incontrati allora io credo che nel tempo nostro che è un tempo come si dice di transizione e ci dicono anche che si sono già appropriati della parola transizione la chiamano transizione ecologica dovreste insospettirvi perché con la transizione ecologica ritornano per esempio ritornano al nucleare ritornano alle privatizzazioni dei servizi pubblici dei beni comuni è una transizione però fanno le cose ancora peggiori rispetto a quelle che ci hanno portato alla contraddizione attuale allora io credo che almeno questa lezione di Franz e di Dietrich di questi due che si sono oggettivamente incontrati ci deve incontrare ci deve insegnare queste due cose primo che non c'è una transizione senza conversione di civiltà cioè stavolta per noi ecco la difficoltà supplementare nostra non basta che uno sperimenta una nuova nascita come singolo stavolta è proprio la nostra civiltà che deve avere una conversione dalla logica del potere alla logica dell'amore come forza vitale non come sentimento per le canzoni di Sanremo l'amore è la forza che genera la vita e la rigenera di fronte ogni ferita o questo lo capiamo o ancora insistiamo a ragionare nella logica di potere e a quel punto veramente non fa differenza cattolici non cattolici stiamo sempre dentro quella logica anzi se siamo cattolici siamo semplicemente più ipocriti perché ci mettiamo Dio dentro la nostra menzogna confezioniamo una menzogna in forma religiosa ecco direi meglio non farlo l'altro insegnamento quindi noi dovremmo impegnarci lavorare per una conversione di civiltà che significa ripensare riorganizzare diversamente tutte le relazioni tra uomini e donne tra umanità e natura tra adulti e piccoli le relazioni economiche di fronte a tutto questo ancora parliamo di competizione è arrivato il virus che arriva dappertutto è stato democratico il virus lui di suo noi no abbiamo ripristinato le diseguaglianze noi facciamo quattro vaccini gli africani neppure uno però discutiamo green pass non green pass mi limita la libertà però non ci importa dell'Africa dell'Asia dell'America Latina e poi questo virus ci dice ma forse serviva una sanità pubblica territoriale della prevenzione giù a riprivatizzare tutto i servizi l'acqua la sanità della sport la scuola cioè non abbiamo imparato niente il virus è stato più avuto pietà se è un attimo diciamo trattenuto adesso pare che sia meno letale ci ha pensato il virus perché se era per noi non ce la cavavamo così facilmente allora ecco l'invito figure come queste ci invitano a una transizione vera transizione significa mettersi in cammino la parola biblica è esodo cioè uscire via da un sistema di potere la seconda cosa che in questo percorso noi abbiamo un'energia una forza perché è disperante prefigurare un cammino così e poi non capire con che energia lo faccio con che forza lo faccio allora noi siamo paralizzati da un grande inibitore che è la sfiducia se voi andate in giro anche fate incontri di questo tipo è sempre qualcuno che si alza però dice però è difficile però sono sì lui sì ce l'ha fatta ma noi no cioè c'è una fortissima sfiducia nella possibilità di cambiare la vita nell'efficacia della nostra personale responsabilità ce la prendiamo con qualcun altro la società il governo chi volete voi però noi no noi ci indigniamo del male degli altri ma mai mettersi in discussione personalmente allora guarire da questa sfiducia che veramente ci paralizza il cuore le mani le gambe cioè diventa veramente la cosa più difficile mi pare che ci richieda di attingere a una fonte di luce di senso di energia che ci restituisce la capacità di agire la capacità di partecipare avete visto Franz questo prende la parola non solo vota no a Nashlus ma poi lo dice lo dice apertamente quante volte noi siamo stati zitti di fronte a quello che accadeva abbiamo preferito meglio farmi i fatti miei questo prende la parola lui in qualche modo agisce con la sua differenza col suo dissenso quello che credo è che noi possiamo ritrovare la parola uscire dal mutismo ritrovare l'azione ritrovare la partecipazione se attingiamo una fonte di senso che ci dice che non dobbiamo né temere la morte o il male perché per quanto siano pesanti minacciosi c'è qualcosa di più forte della morte del male questo era l'annuncio primario del cristianesimo la vita non è destinata a finire e il male non è più forte del bene allora però se tu ti fidi di questo annuncio che è stato incarnato e cominci a viverlo anche tu allora tu diventi per gli altri una fonte di speranza una fonte di fiducia nel tuo piccolo e insomma insieme questo percorso tu scopri che lo puoi fare quindi il grande nemico la malattia mortale che noi dobbiamo affrontare prima del virus è questa disperazione silenziosa questa sfiducia che ci paralizza e ci blocca e ci farebbe sentire una storia come questa come un fatto superato finito il 9 agosto del 43 e poi misconosciuto per decenni almeno fino agli anni 80 ecco proprio per questo suo valore che ci rinfranca ci rincuora ci restituisce la facoltà di desiderare di agire di incontrarci io credo che Franz Jägerstetter non sia semplicemente uno che ci sta alle spalle nel passato ma sia uno che insieme a donne e uomini che sono vissuti come lui ci tiene aperta la strada per il futuro grazie grazie Roberto per averci aiutato a legare la vicenda di questo straordinario contadino austriaco con la vita di oggi le tematiche di oggi i drammi di oggi questo mi sembra sempre importante insomma guardare dietro per poi guardare davanti non so chi è in grado di far girare il microfono per qualche domanda qualche considerazione ancora abbiamo qualche minuto ce l'abbiamo quindi riflessioni domande ricordo sempre se qualcuno deve andare via che fuori c'è il libro di Francesco Comina e quindi raccogliamo facciamo un giro insomma due tre quattro domande o riflessioni e poi riascoltiamo ah nel frattempo vedo che è arrivato anche il nostro vescovo oltre a don Francesco che è il vicario per la pastorale non mi ero accorto non so quanto ha seguito ma veramente una vicenda che ah ecco mi dispiace di non averlo visto prima no ma comunque insomma no lo dico perché per noi è sempre un grande dono avere il vescovo prima c'era Tomasetti Don Mario eccetera averli con noi significa che quello che stiamo facendo insomma sta dentro un flusso che viene da lontano e speriamo vada lontano prego scusa voglio sapere se la Chiesa Cattolica ha fatto qualche azione ufficiale per riconoscere questa figura di Agrestet esatto comunque dopo magari qualche altra prendiamo due o tre quattro domande ecco c'è Marcoli no no prima è una suggestione poi fare due domande la prima suggestione è che in realtà abbiamo un caso quasi sconosciuto per certi versi non dico simile perché abbiamo pochissime informazioni ma piuttosto vicino che avviene sulle colline di Pennabilli Antonio Balducci è un contadino viene obbligato ad essere arruolato nella TOD lui si rifiuta e come renitente alla leva viene fucilato tra l'altro con due scariche di fucile c'è un accanimento sul corpo in quel caso non abbiamo lui non aveva mai aderito alla resistenza però aveva rifiutato di militare nel appunto nel servizio obbligatorio dei nazisti e viene fucilato dalla Camillucia quindi da una delle più efferate brigate fasciste tra l'altro uno degli assassini proprio a sprezzo alla fine va nella casa dei genitori a chiedere che gli servissero il pranzo questo diciamo purtroppo non possiamo dire quanto vi fosse di una diciamo un pacifismo una non violenza di fondo perché le notizie che abbiamo sono proprio pochissime però è un attimo un collegamento che mi viene rispetto alla storia di Jagerstatter poi una domanda che volevo fare ma anche sapendo che insomma era stata trattata tra le figure che recuperano Jagerstatter se non sbaglio c'è anche Doro T. Day e mi sembra proprio c'era stato questo richiamo di Roberto Mancini alle donne nella chiesa allora ecco chiederti che ruolo aveva avuto Dorothy Day nella diciamo nella figura di Jagerstatter nel recupero di questa figura e poi un'altra domanda era sulla su quel passaggio che dico fino agli anni 60 non mi sorprende che la chiesa non si sia occupata di Jagerstatter poi col concilio Vaticano II cambiano un po' con le cose però la chiesa austriaca sembra prolungare come era stato detto fino agli anni 80 quindi se c'è una peculiarità su questo e l'ultima suggestione è questa lettera di Jagerstatter che invita alla lettura secondo me quest'anno è il cinquantennale quasi sarebbe da diffondere in tutte le biblioteche perché credo un contadino che invita alla lettura e che ha la storia di Jagerstatter di opposizione al potere dico ma portiamola in tutte le biblioteche chiediamole di esporla ecco perché mi sembra meravigliosa grazie beh Francesco Comina quando parla di chiesa ha parlato sempre del vescovo e del prete questo è già una visione di chiesa che penso non coincida esattamente con la storia di quest'uomo e con quello che è emerso successivamente anche perché se no contrapponiamo tutti i preti che sono morti ad HAU eccetera eccetera quindi mi sembra che questa cosa va decisamente superata anzi aggiungerei anche questo che in questo senso dico che anche la parola male radicale proprio davanti all'esperienza cristiana non possiamo dire che è il male radicale dobbiamo dire al contrario che esperienze come queste ci fanno esattamente capire il contrario che solo l'amore o il bene come si diceva è radicale l'altro brutalmente è un incidente di percorso è qualcosa è chiaro che non è questione di numeri di maggioranze o di minoranze però questo è il cristianesimo allora il problema della memoria è che noi uomini e donne di chiesa la memoria ci chiede di andare a trovare questi segni e ci sono sotto casa nostra a destra di casa nostra e a sinistra di casa nostra quindi è proprio un ribaltamento perché se per andare in chiesa dobbiamo andare in episcopio è chiaro che lì c'è il vescovo però non è detto che ci sia la chiesa quindi in questo senso credo che queste esperienze come del resto ci sono state in tutti i campi di sterminio in tutte le piccole adesso veniva citato un caso di pennavilli eccetera però io penso che questa questa è la chiesa che probabilmente vive e fa vivere allora probabilmente è una oggi è una difficoltà di raccontare è chiaro riconciliarsi con la storia agli anni 80 va bene ma raccontare fare memoria toccare questa esperienza andare a visitare questi luoghi questo credo che sia quello che io sento nei riguardi del mondo giovanile fortemente cioè come qualcosa dobbiamo narrare raccontare adesso sta morendo tutti ma noi no ancora quindi stiamoci dentro queste storie ecco e per questo dico ecco la mia domanda la mia cosa è proprio questa che effettivamente non so se è condivisibile però che su questo punto probabilmente proprio in questi momenti rinasce il cristianesimo cioè è come se ci fosse un nuovo inizio ecco mi piace molto magari quell'espressione che adesso non è più qualcosa che riguarda i singoli ma riguarda la comunità ecco quindi questo era una riflessione un pensiero grazie io un saluto è che poi le sette c'è un impegno quindi ma la domanda più che domanda la provocazione chi ci tiene i svegli in questo tempo la scuola la scuola di pace è un contributo nel suo piccolo o nella sua lunga storia è trovare un'intelligenza una moralità una una freschezza che ci tenga svegli sapete voi il Papa ci prova ma quanta difficoltà c'è anche da noi ben pensanti sapete bene quindi chi parla oggi della diseguaglianza chi ne parla mai noi siamo tutti non vorrei che diventiamo borghesi ecco questa è la scuola che pange a questo grande almeno in questi 15 anni che lo quando posso io ho seguito alle 5.20 sta ok quindi ho seguito tutto e sono affascinato quindi però non mi piace da affascinare poi il mio amico fermano d'occhio quindi oggi occorre trovare un magistero laico cristiano o altro che ci tenga svegli perché il pericolo è del sonno è un pericolo molto grande oggi che non vuol dire criticità beh c'è la che significa polemica però ci occorre una freschezza credo che in Italia sia molto 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 scadente io ho visto quel poco che che il mondo cattolico può avere queste energie non al caso posso adesso Roberto adesso guardiamoci mi ricordo scavote in Italia ci possono stare queste opportunità però ci accorgiamo insomma un sassone rimesso senza entrare in politica ce ne accorgiamo dopo morto ma chi era nello scottismo come me agli inizi sapeva che era un grande adesso tutti lo sanno vorrei che non succeda che noi facciamo i monumenti ai profeti dopo morti e che non ci vengono le lacrime nel tempo presente mi ha sempre sconvolto in terra santa quando si va su Ia Suflevit scendendo e lì si vede le lacrime di Gesù ecco c'è bisogno di qualcuno e questo è la scuola di pace è un'opportunità a mio avviso non è una domanda ma anche un applauso ci credo ci crederò ci ho creduto sempre e tenerci svegli quanti non mi importa però perché uscendo da questi incontri o queste testimonianze non diciamo sto bene no devo stare un po' male se non sto un po' male sentila sono un borghese che mette la patina oh ci sto pure io che bella non c'è a me fa starmi un po' male ma non diventa l'idefesia e questo per questo anche quando ci ho forse sabato e prossimo non ci sto perché purtroppo perché c'è un problema fisico da operare un occhio quindi frutto della chemio però allora per me la scuola di pace in questi anni mi ha aiutato a stare sveglio e stasera ancora di più e allora l'importante è che chi ha testa chi ha provocazione chi ha intenzione ci aiuta a stare svegli su tematiche di cui Roberto parlava anche seriamente che qui non è che stiamo all'avanguardia qui si parla del pelle si parla di questo ma i poveri aumentano la disuguaglianza non se ne parla proprio è quello che è non se ne parla più proprio solo il Papa ne parla solo il Papa ne parla con stupedaggini fra l'altro sono troppo lungo però devo andare via con grandi stupedaggini le marche diceva la regione presidente dell'estate nel 2060 saranno non un milione e mezzo ma un milione e due e diceva veramente ma anche il Papa ne parlava l'altra sera nell'intervista della catechesi che ho fatto lì da Fazio ma dice non è che bisogna dire non devono venire bisogna fare un programma per fare chi va a lavorare io ero un prete quando era giovedì sì Vantiglieri ha detto a Piange c'è bisogno di troppo non la vettoria gli diamo la quattordicesa e gli appartamenti non li trovo cioè qua si parla anche di stranieri noi stiamo andati a cercare lavoro c'è bisogno di programmare non le puoi programmare e ottenizzare nella inclusione ma chi ne parla in questo rappelazione del Papa l'altra sera con un testo con un linguaggio molto bello non dice accoglienza generica e dice non solo le spiagge d'Italia e della Spagna l'Europa ma chi allora nelle 2060 saranno 45 milioni chi va davanti l'aziente allora avere l'intelligenza aiutarci a stare svegli a non parlare banalmente a non banalizzare il problema dell'immigrazione come quando noi andiamo a aiutare l'America per il lavoro poi c'è il tema dell'inclusione dell'accoglienza della dignità eccetera eccetera ma mi guardo in giro di banalità razzistica ne trovo tanta un po' dichiarata un po' indichiarata nel mondo generico anche soprattutto ben pensante e questo mi preoccupa allora io purtroppo non andrò via ma non mi piace di solito di solito di mania veramente la scuola di pace deve aiutarci a stare svegli e a disturbarci un po' per stare un po' meglio in questi anni li disturbi ho avuto tanti e sono veramente orgoglioso e da qui saluto Roberto perché ci ha disturbato bene e ci tiene svegli anche noi cattolici molto molto il piatto il sabato mi dispiace non ci può stare i minuti di salute quindi però mi dispiace questo poi se c'è la diretta no mi posso mi dare il collegamento così magari mi farebbe piacere proprio ringrazio Luciano ma tutti quelli che ci hanno creduto ci credono e i collaboratori che credono se facessero un libro su 30 31 quanti sono 30 anni 19 anni di scuola di pace avremo noi un dizionario con tutti i relatori è un io non lo posso ricordare sono alla fine mandato però sarebbe una bella opera da gli audio ci sono tutti eh le so gli audio ci sono il cartaggio crea storia si è vero e questo sarebbe interessantissimo perché è una vera scuola di pace che che starebbe bene è nata qui più quella che poi ha prodotto la regione ma è nata qui e mi ricordo che quando sono stato eletto vescovo è venuta la carica a Sedifano con Luciano ti ricordi Luciano se mi ricorda anche la sala mi ricordo sì con Don Giuliano che vuole essere il primo a salutare il nuovo vescovo ebbene ma non era quello che veniva a petire ma hanno posto un problema che non riusciva a capire ancora scuola di pace mi ricordo è 2007 e quindi allora teneteci svegli vi raccomando Roberto non cedere non mancheremo bene chiedo scorsa ma devo purtroppo alle 7 c'è un impegno buona serata a tutti grazie siamo arrivati con Don Francesco un quarto di ritardo perché avevamo una celebrazione della giornata molto interessante fra l'altro con una situazione delicatissima bene Francesco mi raccomando il serbano stai a Cittanova ancora tu o abiti a Macerata no? eh non mi raccomando non andai con questo coppio rimani con noi bene buona vera a tutti c'è la Tiziana qua che voleva allora intanto è accesa? sì sì no intanto volevo ringraziare sia l'autore che Roberto Mancini eccetera della scuola di pace perché veramente insomma gli spunti le riflessioni le 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 ecco gli incipit che ci avete dato sono notevolissimi io non ho adesso domanda dovrei ripensare alle cose eccetera e però volevo fare una così un'osservazione cioè l'importanza del pensare dell'importanza del riflettere l'importanza della parola e la parola che io mi sento no? di mettere al centro di tutto oggi è la parola prenditi cura prendiamoci cura che diciamo così noi ci stiamo riflettendo anche come gruppo di donne eccetera non non servizio di cura ma prendersi cura io sono sconvolta dalla non solo io insomma dalla dal senso scuro della libertà portata avanti dai novax cioè sono sconvolta perché il senso della libertà portata avanti è una libertà dagli altri ecco e quindi insomma sì io non sono una filosofa insegnavo adesso sono in pensione però quello che mi viene da dire è che cercare di coltivare le relazioni rispetto alle relazioni di potere però ripensando alla relazione prima perché noi nasciamo mancanti noi nasciamo mancanti questa secondo me è la cosa diceva Heidegger insomma eccetera nasciamo mancanti se non c'è la prima relazione con la madre che piglia cura e però noi lo siamo in tutta la vita quindi il senso questa cosa di innovarci è una cosa che non c'è verso di ragionarci c'è una cosa terribile un senso di oscuro proprio e noi dobbiamo riportarla all'interno della comunità a un senso differente proprio a partire dalla nascita cioè a partire non dalla morte ma dalla nascita perché noi appunto siamo esseri diciamo mancanti e su questo riflettiamo e vogliamo lavorare cioè essere mancanti vuol dire che io non sono non c'è la natura no? la natura e poi ci sono io sono natura cioè io sono nel nel creato ecco no adesso non la faccio lunga di fronte a persone cioè no penso questo ecco vuol dare un piccolo contributo grazie comunque se c'è ancora qualcuno se no andiamo un po' alle conclusioni ci saluti o vuoi parlare? ah vuoi parlare una brevissima parola ma quello che ha detto lei non mi ricordo come si chiama? Roberto Mancini Roberto Mancini su noi ha sparato a zero sulla chiesa su noi su tutti noi ne ha detto di tutti i colori poi lo risentirò nella registrazione a me piacerebbe farle innanzitutto una domanda personale lei in questo momento cosa sta facendo per i lager lei dopo me lo dice perché mi piacerebbe saperlo perché io personalmente non so cosa fare seconda cosa io credo che ci sia una diversità fondamentale tra i gestetter e la situazione attuale di attenzione alle povertà del mondo agli immigrati e tutto il resto gli gestetter ha fatto una scelta di coscienza ed era lui era lui coinvolto era lui in prima persona io stesso non dico come non dico quando mi sono trovato nella scelta di gli gestetter e l'ho fatta non compreso da tanti e la mia vita ha cambiato senso ma un conto è ed è una cosa meravigliosa una testimonianza di una persona così che si trovava in una situazione ben precisa lui doveva decidere se votare o no ha scelto di non votare ed è morto per questo dando una motivazione meravigliosa ma noi oggi siamo io credo in una situazione assolutamente come dire immensa cioè qui il problema delle immigrazioni dei rifugiati dei campi di concentramento ci sono questi problemi ma non è che gli gestetter ha abolito il campo di Dachau tanto per dire cioè voglio dire che io vorrei sapere bene dalla mia chiesa e lo sto chiedendo da tanto tempo qual è la strada che noi concretamente possiamo percorrere per fare qualcosa io personalmente mi impegno a seguire a firmare a seguo i rom che nessuno segue o quasi nessuno della nostra città però quando viene qualcuno mi dice ma voi chiesa non fate assolutamente non mi sembra giusto questo perché noi adesso stiamo maturando la scuola di pace ne è un esempio una maturazione almeno di coscienza una maggiore attenzione eccetera però sarebbe bello riuscire a sapere da qualcuno come lei o come altri che cosa in concreto la chiesa la comunità credente dovrebbe fare e Don Francesco qui mi è piaciuto molto tutta la comunità credente cioè tutti i credenti cosa potremmo fare in concreto per poter dare un minimo di contributo tenendo però presente che si tratta di dover far evolvere una coscienza chiamiamola universale dove sono coinvolti milioni e milioni di persone di attori e dove noi contiamo veramente veramente poco a livello politico a livello sociale però forse c'è una qualche strada per partecipare io poi chiudo in una recente occasione ho chiesto alla città di fare di accogliere delle persone per esempio dei rifugiati a cui i cristiani dessero la disponibilità di accoglienza e di sicurezza perché a Fano in effetti non c'è più un centro in citadico non c'è più un centro di accoglienza di nessun genere però io ho seguito quelli che c'erano quando c'erano però adesso lo chiede al sindaco lo chiede al vescovo lo chiede alla chiesa si fa fatica perché poi dopo di fatto bisogna combattere bisogna dare il proprio tempo i soldi le proprie forze e non è così facile però credo che ci sia un minimo di maturazione in cammino però io vorrei sapere di preciso da qualcuno che cosa conviene fare di concreto e preciso per avvenire incontro che so io ai lager che sono in Libia grazie grazie primo possiamo andare a chiudere l'ultimo giro do subito la parola magari prima a Roberto e poi a Francesco che chiuderà come autore del libro prego solo una parola tanto grazie per gli interventi noi abbiamo un grosso problema secondo me di fronte a quale non dobbiamo chiudere io sono sacerdote sono direttore i nostri cristiani di certi argomenti non vogliono sentire parlare e anche tanti confratelli per cui quello che lei diceva poi possiamo disquisire la chiesa i vescovi i sacerdoti il popolo di Dio tutto il popolo di Dio mi aiuta il versetto del lievito dobbiamo agire chi crede che il Vangelo deve operare in questi ambiti con la convinzione di essere lievito nella massa e questo mi aiuta a non scoraggiarmi però ce l'abbiamo questo problema e non dobbiamo negarlo io voglio portare un esempio stupido se noi guardiamo i formulari per fare da padrino ancora facciamo domande di morale che ci vogliono di comportamenti e scelte personali che ci vogliono ma non c'è nessun riferimento se il padrino è aperto alla giustizia sociale all'accoglienza e questo è un segno un segnale che ancora siamo legati a quella vecchia idea di chiesa come dicevi poco fa di un sistema di potere questo ovviamente potrebbe comportare una svolta di questo tipo in questo tempo di sinodo dipende da tutti i cristiani della domenica la domanda è vogliamo chiese piene di chi non crede vogliamo delle chiese con credenti con tutta la difficoltà di poter rispondere a questa domanda perché Gesù ci dice anche di non spegnere il lucigno lo fumigante grazie grazie Don Alessandro allora la parola subito ai nostri due amici per chiudere però volevo dire una cosa rispetto a quello che diceva Don Francesco perché credo sia importante che quando parliamo di chiesa dobbiamo avere l'idea una cosa è il Papa i vescovi i preti e poi il popolo di Dio ora è complessissimo dire come si è comportato la chiesa durante il nazifascismo voglio però citare una situazione che conosciamo bene perché per amicizia molti di noi alcuni di noi almeno legati a Don Romola Don Tossetti conosciamo molto bene la vicenda di Montesole di Marzabotto e lì la testimonianza di preti praticamente sconosciuti alla maggior parte delle persone è stata straordinaria hanno dato la vita per salvare il popolo per salvare le persone quindi quando parliamo di chiesa la cosa è estremamente complessa sono stati esempi luminosi ci sono stati esempi molto meno luminosi quindi è importante avere un po' questa visione generale perché se cominciamo a mettere insieme tutti i cristiani che hanno accolto ebrei che hanno salvato persone a rischio della propria vita ecco allora la situazione è molto più complessa di quella che potrebbe sembrare che Francesco ha ben descritto in quel contesto specifico austriaco di quel periodo ma che poi visto nella totalità ovviamente è tutt'altra cosa sì allora due risposte da un lato questo riprenderei questo sulla chiesa nel senso che oggi noi seppure con una situazione diciamo una condizione storica diversa non possiamo non confrontarci non fermarci a riflettere sulla qualità sull'autenticità di quello che chiamiamo cristianesimo io personalmente credo che la chiesa sia fatta misteriosamente non così formalmente ufficialmente con le bandiere di riconoscimento da quelli che vivono come Gesù di Nazareth e il perimetro non coincide con quello ufficiale della chiesa cattolica magari sono atei magari sono induisti magari sono ebrei ma è la nuova umanità capite la chiesa non è un'identità assoluta no? è una forma transitoria che evoca una fraternità una sororità che riguarda addirittura il creato mica solo l'umanità quindi ecco non vorrei che procedessimo con categorie di separazione se no fraintendiamo proprio il Vangelo secondo me allora una verifica su questo visto che questa malattia del potere delle logiche del potere della connivenza è così tenace è proprio quello che ci sta portando verso l'autodistruzione perché applicato alla natura stiamo distruggendo casa nostra almeno questo quindi ecco non è che possiamo dirlo così come se fosse una cosa ovvia scontata lo sappiamo no ci sono tanti equivoci su questi che riguardano su questo e riguardano ciascuno di noi sulla sollecitazione alla testimonianza personale ecco da un lato non è che vorrei la critica era rivolta era un noi non era fatta diciamo da me come se fosse immune a qualcun altro dall'esterno era anche un'autocritica mentre dal punto di vista dell'impegno adesso non c'ha senso che faccia delle non sarebbero autentiche delle apologie di quello che faccio io posso dire che io impegno il mio tempo nell'azione educativa nella ricerca universitaria negli incontri che faccio e nell'impegno politico perché io penso che politica dobbiamo farla solo non più una politica di potere o dell'identità o della esclusione degli altri quello che diceva la signora una politica del prendersi cura su questo tanto del mio tempo va qui anche della mia esposizione voi sapete che se uno si espone noi siamo abituati al circuito per chi è fortunato che c'è una routine lavoro famiglia amici se proprio esagera fa un po' di volontariato ma non gli chiedere di fare politica perché significa esporsi allora o si espone o se c'è un'ambizione oppure non si espone proprio eccolo io cerco di evitare questa strettoia e di tradurre nell'impegno politico nell'altro senso quello che dicevamo anche proprio sulla questione dei migranti cercando di non parlarne in terza persona ma di conoscerli di incontrarli di sapere i nomi le storie purtroppo registro appunto che è tanto facile che anche nei consessi migliori ci troviamo tra italiani però le persone straniere che pure vivono accanto a noi sembrano un mondo parallelo invisibile che non si incrocia mai e dovremmo smontare questa cosa le nostre assemblee ecclesiali assemblee politiche assemblee di altro genere feste cioè ora che veramente solo la scuola perché è un fatto oggettivo voi entrate in una scuola è una classe lì c'è il mondo solo che non siamo neppure preparati a questo figurarsi gli altri ambiti chiesa compresa ecco a me piacerebbe invece che non parlassimo degli stranieri così riconoscessimo che nessuno è straniero che nessuno viene da Marte da Giove sono tutti esseri umani esattamente come noi quindi già la parola straniero ci for via ci porta fuori strada e questa sia un'esperienza concreta da cui abbiamo tanto da imparare anche di smettere l'idea che dobbiamo aiutarli ma dobbiamo fare strada con loro e spesso dobbiamo imparare da loro che è proprio un'altra cosa Francesco che firma i libri non andate via grazie io vorrei riprendere un po' l'invito del Vescovo che ci diceva appunto rimaniamo svegli perché negli scritti di Franz questa metafora proprio del sonno del sonno della chiesa del tempo ritorna spessissimo io nel racconto che ho fatto sono rimasto praticamente quasi totalmente fedele alle parole tutti gli incisi che ci sono i virgolettati che riprendono nella storia sono tutti di Franz e Gristetto quindi ci sono tanti passaggi nelle sue lettere nei suoi discorsi e molto spesso lui torna sul tema proprio del sonno della chiesa dice a Franziska quello che mi spaventa è il silenzio che ci circonda il sonno di queste guide che dovrebbero darci l'indirizzo dovrebbero darci la strada e invece ci depistano ci portano fuori strada io ho trovato anche un passaggio di uno scritto proprio per spiegarvi anche la critica forte che faceva Franza alla chiesa del tempo quindi in Austria non ci sarebbero molti buoni preti in libertà se il credo cattolico ostrioco si fosse opposto con più decisione al referendum del 10 aprile invece di lodare o addirittura per alcuni invece di lodare addirittura per alcuni buoni interventi in questo partito e di aiutarlo fino a una vittoria quasi del 100% i nostri vescovi devono aver creduto che il nazionalsocialismo sarebbe durato poco e che con loro e che la loro accondiscendenza avrebbe potuto risparmiare i fedeli martiri e pene ma è andata diversamente sono passati anni e ora migliaia di uomini devono morire per questo errore capite queste sono diciamo le critiche che Franzi Gersetter aveva fatto dentro quel sistema lì poi è vero c'era il bene radicale rappresentato non solamente da Franzi Gersetter ma di tanti altri sacerdoti frati giovani che io racconto tra l'altro nel libro io racconto anche alcune vicende analoghe di altri cristiani che in qualche modo hanno testimoniato come Dietrich Bonhoeffer ma non solo i giovani della rosa bianca erano anche dentro questo mondo ma c'erano in Austria c'erano parecchi cioè alcuni sacerdoti che avevano fatto insomma un'opera di di opposizione se voi andate al museo della Widerstand della resistenza a Berlino rimarrete stupiti migliaia e migliaia di persone avevano cercato in qualche modo di opporsi al tiranno e molti sono stati ammazzati quindi insomma la storia è complessa è vero anche la storia della chiesa austriaca è complessa ci sono luci e ombre per esempio il cardinale di Vienna quello che aveva fissato la bandiera nazista sul campanile che aveva diramato una lettera a tutti i vescovi dicendo di accogliere nel migliore dei modi Hitler durante l'Ancelus era firmata Heil Hitler la lettera ai vescovi un anno dopo aveva cambiato totalmente posizione era intervenuto perché sollecitato da Roma ad essere duro e critico nei confronti del nazismo perché erano cominciate ad arrivare le lamentele da parte dei cattolici nella Germania aveva fatto un'orazione dura nei confronti della gioventù nazista e tant'è che gli avevano bruciato la cattedrale quindi luce e ombre testimonianze molto diverse per esempio gli amici di Franz dopo la morte di Franz avevano continuamente sollecitato i vescovi a riconoscere la testimonianza di Franz e Christetter nessuno aveva avuto il coraggio di farlo addirittura c'era stata una denuncia di Karobat questo parroco di Sant Radegond che era stato mandato in esilio ad un certo punto perché appunto anche lui con posizioni critiche nei confronti del nazismo aveva denunciato il vescovo negli anni 70 aveva denunciato il vescovo di Linz perché non si era fatto trovare era scappato praticamente un giorno in cui una troupe televisiva era venuta per girare un filmato sulla storia di Franz e Christetter chiedendo un'intervista al vescovo aveva fatto trovare la porta chiusa e se n'era scappato e poi di fatto l'avevano trovato in un bar lì vicino che beveva aveva detto sono impegnato eccetera quindi la situazione effettivamente insomma è una situazione complessa fatta di tante cose luce e ombre però insomma con le parole di Franz molto forti molto dure nei confronti dell'atteggiamento remissivo della chiesa austriaca di quel periodo non sono parole mi sono proprio li troverete negli scritti di Franz per quanto riguarda Dorothy Day sì è vero Dorothy Day ne ha parlato Dorothy Day aveva praticamente pubblicato il libro di Gordon Zan il primo libro su Franz e Christetter del 62 l'aveva pubblicato sul Catholic Worker che era la rivista di riferimento insomma del movimento di Dorothy Day quindi e tra l'altro si trovano nei diari di Dorothy Day molti passaggi dedicati a Franz e Christetter quindi insomma coinvolte in maniera molto forte per quanto riguarda la posizione della chiesa ufficiale ma di fatto appunto inizia solamente negli anni 80 una presa una valorizzazione della storia ufficiale di Franz e Christetter in Austria fino ad allora appunto posizioni molto remissive molto silenzio molta paura paura che in qualche modo le associazioni dei veterani di guerra potessero criticare reagire rispetto alla volontà di sollevare un uomo che comunque aveva obiettato aveva rifiutato di aderire al nazionale socialismo cioè praticamente il motivo era questo questi tra l'altro l'Austria è quasi totalmente cattolica come diciamo queste associazioni diciamo ma come mai noi siamo andati a fare il nostro dovere sui fronti e mi valorizzate questo che invece non ha voluto farlo che si era messo conto eccetera questo era il motivo diciamo che poi si ritrova anche per la vicenza di Josef Maernusser in Sud Tirolo in Sud Tirolo la chiesa sud tirolese aveva paura di affrontare questa figura è stato beatificato nel 2017 quindi capite per tantissimo e anche per quanto riguarda il caso di Josef Maernusser è stato beatificato nel 2017 però con grande attenzione rispetto alla diciamo alla cultura sud tirolese di non toccare troppo le posizioni diciamo critiche nei confronti del nazionale socialismo quindi tutta la parte politica di Josef Maernusser mentre sostenendo fortemente invece l'amore per Cristo tutta la sua testimonianza diciamo di fede questa paura ancora in qualche modo di toccare dei nervi scoperti a livello diciamo sociale politico ma mi pare che queste siano le cose principali poi un'altra cosa per chiudere perché molto spesso c'è questo atteggiamento anche un po' zuccheroso della chiesa rispetto ai martiri i marri il martirio quasi che si fossero cercati il martirio questi giovani in realtà non è vero sia per Josef Maernusser sia per Franzi Gerstetter sia per i giovani della Rosa Bianca eccetera sono vite tormentate cioè questa scena di Franzi Gerstetter il giorno in cui decide di non presentarsi in caserma alla Wehrmacht nell'arruolamento della Wehrmacht è terribile fa venire i brividi entra in uno stato totalmente di tormento addirittura si vuole suicidare a un certo punto cioè è messo in contraposizione al suo senso di responsabilità di uomo di padre di famiglia di marito eccetera con questa sua ricerca di verità difesa della verità che lui sente fortemente quindi non è che sono andati diciamo alla morte così intrepidi con il cuore in mano sono vite tormentate che li rendono anche molto umani in questa scelta non è stata una scelta facile è stata una scelta molto sofferta ecco perché insomma Franzi Gerstetter aveva i piedi ben piantati per terra non era un esaltato hanno cercato di farlo passare come un esaltato infatti il ministero degli affari sociali quando rifiuta di dare i contributi alla famiglia risponde nella lettera alla moglie in questo modo abbiamo sentito nel paese che parlano di Franzi Gerstetter come di un esaltato come di un esaurito che aveva questi problemi qua e questa è la motivazione per cui non le volevano dare il contributo che gli spettava come morto appunto come vittima di quella guerra quindi la situazione effettivamente è complessa anche nell'Austria nella situazione di quel periodo austriaca però ci sono stati è vero sono stati persone che hanno diciamo rappresentato questo bene radicale bene sommo di fronte a un male radicale il male radicale ci viene dall'analisi che ci hanno dato in gran parte i sopravvissuti che ci parlano di un male radicale quando Agnes Heller fa la differenza tra male ordinario e male radicale è proprio questo il male ordinario era il male che poteva succedere con anche diciamo dentro la società con il rifiuto appunto degli ebrei con la denuncia dell'ebreo nascosto questo è il male in qualche modo ordinario il male radicale è il male organizzato strutturato pensato elaborato tant'è che Agnes Heller era molto critica anche nei confronti del titolo del libro di Anare della banalità del male sapete che c'è un movimento critico rispetto a questo titolo il male non è mai banale diceva Agnes Heller il male è qualcosa di radicale organizzato pensato strutturato non è un male così no e quindi ho raccolto questa diciamo interpretazione da parte diciamo soprattutto dei sopravvissuti alla Shoah che parlano appunto di male radicale bene grazie tu non sai che hai fatto parlando di Dorothy Day parlando dei gruppi e estete degli Stati Uniti hai fatto inorgoglire la nostra carissima Sir Catherine che viene da Chicago e quindi ha sentito con molto piacere queste cose positive dalla sua terra detto questo ci salutiamo ringraziando davvero i nostri amici e ovviamente il libro è a disposizione qui fuori grazie e buona serata grazie grazie benvenuto bene grazie grazie grazie